Ma non dobbiamo scopare? Sì, sì, dopo. Adesso stai ferma. Girata così, brava. Ecco. Sì. Ferma. Adesso ho capito. Sei un pittore. Io chissò. La Maddalena, quella del Vangelo. Maddalena. Eh? Ma che devo fare? Testa ferma. Com'è che ti chiami? Abbassa la testa. Annuncia. Annuncia Bianchini. Annuncia. Sta ferma, annuncia. Guarda verso terra. Sì. Così. Babaligella. Arcangelo Michele. E poi. La 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 H Abbiamo. Grazie a tutti.